Un adeguato sviluppo del territorio, uno sviluppo economico, non può non passare attraverso adeguate infrastrutture, adeguati sistemi di trasporto. Per quanto riguarda l'area di Taranto, della sua provincia, ci sono molti enormi deficit. Ne parliamo con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Taranto è sicuramente un problema, un problema di viabilità grande e in più la fascia orientale ha un problema grandissimo. Io faccio il medico dall'88, è un ricordo particolare che appena ho cominciato a lavorare purtroppo il papà di Fitto ebbe un incidente a Francavilla e venne a mancare. Si parlava già allora di regionale 8, 1988, 32 anni e passa. Questa benedetta strada, la regionale 8, che parte da Taranto, doveva andare fino a Odotaranto, ancora si parla tuttora e ogni volta che c'è si lancia sempre un progetto diverso che non va in porto. Bisogna mettere mano assolutamente alla viabilità. Noi abbiamo una viabilità che è disastrata completamente. Guarda, io stavo andando a Martina l'altro giorno e ho visto che tagliavano, chiamiamola una montagna, una collina, per allargare una strada. E hanno fatto bene. Ma in questa parte di territorio abbiamo una Taranto, una Torricella in particolare, una Marugio-Vetrana, che è una strada piccolissima. Se da Vetrana devono andare a Taranto, devono intraprendere un viaggio, non è uno spostamento per come sono le strade. E per cui bisogna mettere mano assolutamente. Per le strade perché? Perché le strade sono importanti per tutto. Per la sicurezza. La sicurezza stradale evita i morti se la strada è fatta bene. Per l'emergenza sanitaria. Se non ci sono le strade noi possiamo fare di tutto, ma non si si arriva negli ospedali. È un problema. Per l'agricoltura, il trasporto. Per il turismo. Perché un turista deve intraprendere o venire in un posto dove non ci sia una viabilità che scorre bene? E per l'industria. Perché anche l'industria che produce in un determinato posto deve spostare le merci. Sarà un obiettivo principale della Regione quello di mettere mano alle strade dell'intera provincia di Taranto. Ecco, dottore, abbiamo parlato del sistema stradale, ma parlando di trasporti, c'è anche da sottolineare un sistema ferroviario che vede Taranto marginalizzata, assolutamente non collegata. Per non parlare poi di questa favola dei voli civili all'arlotta di Grottaglie. È sicuramente marginalizzata. Noi avevamo il Taranto-Roma, poi tolto, poi rimesso. Non si sa mai quello che va a finire. Siamo sempre alla fine. Abbiamo ancora docci, un monobinario, non è completamente elettrificato. Cioè, questi dei treni siamo distanti ed è anche qui da sistemare. Le ferrovie sono oggi, le ferrovie con i treni, i trasporti veloci, possono addirittura sopperire a quelle che sono il trasporto aereo. Perché per i brevi trasporti si è favorevole usare il treno anziché l'aereo. Per l'arlotta, l'arlotta noi dobbiamo tipizzarlo, quell'aeroporto. Non può essere, allora, oggi ipotizzare che tanti voli internazionali possano arrivare a 50-60 km da un aeroporto a un altro e un po' avere delle chimere in testa. L'aeroporto bisogna trovare la sistemazione giusta. Innanzitutto l'estate, perché va utilizzato d'estate per il trasporto del turismo. Per il trasporto merci, perché non vedo, perché non possa essere. E poi anche per tutte quelle che sono le sperimentazioni aeree e la Puglia, anche nell'ambito dell'avionica, ha sicuramente delle eccellenze. Grazie.